Sì, non posso puntare, non posso puntare. Ciao ciao! È una fantasia! Bravo! Volevo andare a fondo! Volevo andare a fondo! Gli altri esercizi quali sono? Tanti laterali! No, non rispondi a fondo. C'è un bacione? Non è così! C'è un bacione? E' sopra il calcio! C'è un bacione! C'è un bacione? C'è un bacione! Che bravo! E' Leonardo! C'è un bacione? Che bravo! Puoi essere un bacione? A questo punto il lavoratore italiano ha già chiesto il cambio, quindi tu sei fortissimo, avrebbe già fatto così il cinema.